Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV del sito Gianluca Rossi.it Siamo qui a commentare un altro pareggio, il secondo consecutivo e certo abbiamo un po' rallentato dopo Napoli-Inter 1-1, anche alla Spezia l'Inter fa 1-1, però partita molto diversa. Fatemi dire, per motivi che forse chi mi segue conosce bene, non sono così dispiaciuto di questo pareggio. Non sono così dispiaciuto perché nello Spezia gioca un giocatore, un grandissimo interista che si chiama Giulio Maggiore. Sono orgoglioso di indossare la sua maglia, dovrebbe scorrere in questo momento una fotografia perché io ritengo che Giulio Maggiore, grande interista, che è una storia meravigliosa perché interista perché andò a fare un provino al Milan indossando l'accappatoio dell'Inter, era stato quello che aveva sbloccato la partita della Spezia contro il Milan il 13 febbraio scorso, poi l'Inter avrebbe battuto la Lazio il giorno dopo, da lì si è determinato il sorpasso, poi il successivo allungo, la marcia trionfale. Adesso devo dire che al di là dell'onore a Giulio Maggiore mi fa piacere che lo Spezia abbia preso un punto tra l'altro veniva credo a cinque sconfitte insomma da quando aveva battuto il Milan, si era un po' incagliato lo Spezia e devo dire che invece si è incagliato di nuovo il Milan, si è incagliato di nuovo il Milan una partita che io pensavo vincesse contro il Sassuolo a San Siro e forse un pochino l'Inter mentalmente è andata in campo deconcentrata sapendo che poi se anche rallenta alle sue spalle non è che le altre riescano comunque a tenere il passo, sì è vero la Juventus abbattuto il Parma ma aveva appena perso con l'Atalanta, in fondo ha guadagnato solo un punto, va completato il quadro della 32esima giornata, se l'Atalanta dovesse vincere a Roma diventerebbe praticamente seconda, resta il fatto che noi abbiamo comunque mai che vada 9 punti di vantaggio sull'Atalanta, se non ricordo male comunque ne abbiamo 10 sul Milan che poi sono 11 con lo scontro diretto e che è giusto continuare a considerare secondo in classifica. Nel dopo partita alla Spezia, dopo questo pareggio che per certi versi grida vendetta in altri tempi mi sarei arrabbiato tantissimo per il numero incredibile di errori, di occasioni sbagliate, so se avete fatto caso ma anche Antonio Conte a un certo punto ha usato la parola scudetto. Adonta degli scaramantici, insomma sei giornate dalla fine, con davanti adesso il Verona a San Siro il 25 aprile e sabato 1 maggio il Crotone già praticamente retrocesso, insomma io credo che confermo la mia data scudetto che è il 9 maggio il giorno di Inter Sampdoria, a meno che dietro non combinino ulteriori disastri, c'è un Lazio-Milan ad esempio, ma probabilmente per allora la seconda forza del campionato potrebbe essere di nuovo la Juventus oppure addirittura l'Atalanta. Ma è inutile fare calcoli sugli altri, parliamo di noi e per quanto riguarda noi, al di là di Conte che ha utilizzato la parola scudetto e che mi è piaciuto anche nei suoi pensieri a fine partita, si vede che è un uomo libero Antonio Conte. Ha parlato tanto della Superlega, sottolineando che comunque lo sport ha il valore meritocratico, quindi liberamente e dicendo anche che comunque l'UEFA ai grandi club dà troppo poco di quello che incassa, insomma distribuisce troppo poco, ma il senso dello sport che è quello che noi romantici vogliamo continuare ad avere è stato comunque riconfermato un pochino da tutti, poi capisco che Andrea Pirlo, che magari la pensa nello stesso modo sia in grave difficoltà, ribadirlo proprio perché ha il presidente Agnelli che è stato insomma spingendo sull'acceleratore il grande fautore insieme a Florentino Perez di questa improvvisa accelerazione e poi di questa retromarcia. Ma torniamo al campionato perché il campionato di Serie A c'è, ci sarà, ci sarà sempre, magari fra qualche anno se davvero la Champions diventerà simile alla Superlega potrà valere qualcosa in meno, ma oggi non è così, il campionato di Serie A vale tantissimo, lo sta vincendo assolutamente meritatamente l'Inter e alla Spezia, e alla Spezia insomma gli errori che sono stati fatti, allora cominciamo da Andanovic perché io so che c'è sempre qualcuno che ha bisogno, finito l'epoca del Conte Out ha bisogno dell'Andanovic Out. Allora vi volevo rassicurare, Andanovic è il primo a sapere che ha intrapreso la parabola discendente della sua carriera, non è che non lo sappia, lo sa benissimo, tant'è che il progetto l'anno prossimo è che resti all'Inter affiancato da un portiere che ne prende il posto. Un po' quello che è accaduto il primo anno tra Szczesny e Buffon, ve l'ho già detto tante volte, Szczesny il primo anno fa 12 partite e gioca più Buffon, poi quando l'anno successivo si sa che parte titolare Szczesny e Buffon preferisce andare a Paris Saint Germain, non sarà così per Andanovic che secondo me ha capito perfettamente che ha fatto tanto, ha dato tanto, questo scudetto potrebbe giustamente dopo tanti anni all'Inter in cui l'Inter non era una squadra, diciamo la verità, importante, potrebbe essere tra virgolette la sua eredità e poi la sua esperienza l'anno prossimo sarà di nuovo a disposizione dell'Inter perché se no ci ricordiamo soltanto le papere, io non capisco gli interisti che anche in un momento come questo hanno sempre bisogno di odiare qualcuno, probabilmente non essendo amati in casa loro devono per forza trovare qualcuno con cui prendersi, una volta è Conte, una volta è Gagliardini, una volta è Andanovic, sì sul tiro di Farias al dodicesimo della ripresa Andanovic ha fatto un paperone, non è il primo, era già successo a Napoli nello scontro con De Vrij, va bene ma andatevi a rivedere altre partite, Andanovic è stato determinante nel derby, Andanovic è stato determinante in Inter Napoli, due parate che sono da sigla televisiva, quindi ripeto questo continuo ma quello non va bene, quell'altro non va bene, alla Spezia non è andato bene nemmeno Lukaku, si è mangiato un sacco di gol, ragazzi Lukaku sta tirando la carretta, è chiaro che affiori un po' di stanchezza, è chiaro che affiori anche un pochino di tranquillità psicologica perché vedi che gli altri insomma non vanno neanche a spingerli e quindi ci può stare lo stesso Conte che come sempre nevrotico su tutto lo mette nel conto insomma che la squadra possa fare qualche errore di troppo, in fondo l'Inter alla Spezia ha stradominato, ha giocato ancora meglio che a Napoli, ha preso due pali con Lautaro perché questa è la verità, le sono stati annullati due gol in fuorigioco, per come l'ho vista io probabilmente c'era anche un rigore su Lukaku, ma chi se ne frega non sto qui neanche a dire, tanto che la vara ogni tanto venga utilizzata in maniera un pochino strana, noi dobbiamo guardare in questo momento quel che di buono stiamo facendo, ripeto, adesso sinceramente poi non era facile battere chi ha battuto i campioni d'inverno, lo Spezia vi vorrei ricordare che ha battuto i campioni d'autunno e i campioni d'inverno, ossia il Milan l'ha battuto senza fargli vedere pali, scherzo a parte questa era una battutaccia uno sfottotipico tra cugini. Diciamo che abbiamo risposto poi al gol di Farias su papera di Andanovic, ebbene sì, lo riconosco, andando a raccogliere un pareggio comunque con una bella azione ancora in finale di primo tempo tra Akimi e Perisic, anche Perisic è uno che ogni tanto bastonate, secondo me gratuitamente, però comunque questo è un altro gol importante che ti permette di contenere al minimo le sconfitte e abbiamo ripreso a sbagliare tanto, tanto, tanti passaggi, tanti tocchetti, anche Lukaku al quale voglio un bene dell'anima, figuratevi se mi metto adesso a criticare Lukaku, però bisogna ammettere che alla Spezia, complice un po' di stanchezza, non ha fatto una bella partita, ma è giusto che andiamo avanti con la formazione filastrocca, è giusto che siano questi ragazzi, perché qualcuno mi dice ma perché non dargli un po' di riposo, poi vedi come entra Sanchez e capisci che è meglio che giochi Lukaku, no? Quindi ripeto, è comunque un altro passettino, un po' più piccolo, in avanti verso lo scudetto, perché intanto le giornate diminuiscono e l'Inter è sempre lassù, sempre più che mai, con la consapevolezza che, ripeto, magari puoi anche andare in seconda e in terza marcia, ma hai la consapevolezza che presto tornerai ad andare in quinta, io continuo a vedere distacchi in doppia cifra su chi ci insegue, vedremo se sarà così e vedremo se il 9 maggio ci sarà la matematica. Ciao a tutti e viva l'Inter!